Salve a tutti e benvenuti alla sesta e ultima prova del campionato d'inverno Fosso Olimpica al TAV Umbria Verde. Oggi è una giornata stupenda, guardate qua. Oggi è altro che il campionato d'inverno. Oggi sembra primavera. Stanno sparando lince e sparamonti. Dopo di loro ci siamo noi. Speriamo che oggi siamo in forma. A dopo. La prima serie è andata. Ho fatto 22. 3-0 diciamo del cavolo. Complimenti a Davide Allegrucci. Ha fatto un bel 25. Luca Pierozzi 22. Fabio Battini 23. E così. Teniamo l'Uro per l'ultima serie. A dopo. La gara è finita. Ho chiuso con un 21. 3-0 gli ultimi 7-8 piattelli. Sbagliando anche l'ultimo. 43. Il risultato finale non è andata bene. Ora mi preparo perché ho il barrage per il Top Shooter Social Umbria. Signori e signore. La finale del Top Shooter Umbria è finita. Direi strepitosa. 25 piattelli fumogeni sparati ad un colpo. Io fino a 10 piattelli ero super in testa con uno zero solo. Ma dopo ho un attimo annaspato. Ha vinto il grandissimo Rota Oscar. Detto il Cobra. Secondo classificato Stefano Pennoni e terzo Memedesimo. Dopo ci sarà la premiazione. A più tardi. Allora inizierei con le premiazioni del Best Social Shooter e chiamerei sul podio il terzo classificato del Top Umbria Verde Stefano Pennoni. Secondo classificato dal Top Foligno Diego Tessi e vincitore di questo Best Social Shooter Andrea Calini il Top Appenino. Terzo classificato ancora una volta lui Stefano Pennoni tira a volo Umbria Verde. Grande applauso. Grande Stefano. Medaia d'argento per il grande Cobra Oscar Rota Tav Cascata. Il vincitore ha un video meraviglioso. Un grande applauso a Carlo Mari Tav Perugia. Bravo Carlo. bravi un bel applauso. Bravissimi. Grazie a tutti. Ed ora passiamo alla premiazione di questa finale che c'è stata oggi alle tre e mezza al campo tre. Una finale meravigliosa con dei tiratori fantastici accompagnati appunto dai loro accompagnatori anche loro straordinari. Allora chiamerei tutti e sei finalisti sul podio tutti e sei finalisti sul podio per ritirare un premio omaggio dal presidente. Grazie Marino aiuta Katiuscia. a tutti e sei qualificati questa straordinaria finale. Un bel omaggio da parte del presidente Rossi. Ancora un bel applauso. ed ora i migliori tre punteggi di questa finale. Al terzo posto in rappresentanza del tiravolo Foligno uno straordinario Diego Testi. Secondo classificato tiravolo un breve Stefano Pennoni e vince dopo una straordinaria finale Oscar Rota il Cobra. Complimenti.